Per la terza volta in 40 giorni la mano nera ha colpito contro una farmacia in via Atenea ad Agrigento. Le immagini della telecamera inchiodano il colpevole. Nel corso di 40 giorni e altre tante notti, tre volte la mano nera ha colpito. Inesorabile, spietata, ha afferrato la prima pietra e l'ha scagliata contro il vetro. Poi il secondo sasso, il bersaglio sempre lo stesso, il cristallo della farmacia Minacori. Poi il terzo lancio, questa mattina poco dopo l'alba, la mano come il film di Oliver Stone ha spaccato la vetrina con un mattone. Il primo colpo il 20 ottobre, come se nulla fosse, forse un vandalo, pazienza, pago e la compro nuova, semaforo verde. Il secondo il 6 novembre ed il grado di intolleranza del farmacista si è impennato, verde e giallo. Anesso la terza botta, stop, semaforo rosso. Lui è il titolare, il suo nome, per chi non lo conoscesse, è Paolo Minacori, già assessore al comune di Agrigento e tra i protagonisti della vittoria elettorale del sindaco di Agrigento, Marco Zambuto. Paolo Minacori ha afferrato lui, non una pietra, ma la telecamera della farmacia. Ecco il risponso dell'obiettivo, quasi come se si interrogasse un oracolo al tempo delle divinità pagane. La mano nera ha infierito questa mattina esattamente alle 6 e un minuto. Ad Agrigento, in via Atenea, al civico 91. Le immagini della telecamera adesso serviranno per incastrare il colpevole, inchiodarlo al muro delle prove schiaccianti e scongiurare il rischio ed il pericolo che la stessa mano si accanisca contro la farmacia per la quarta volta. Il dottor Minacori è indignato, arrabbiato, rammaricato, amareggiato, angustiato. Adesso auspica un rapido corso delle indagini. Si ripete per la terza volta in appena 40 giorni un atto vandalico nei confronti della mia farmacia. Un individuo stanotte, stamattina verso le 6, ha lanciato un masso nella vetrina distruggendola per la terza volta. La prima volta è accaduto tra il 15 e il 16 di ottobre, la seconda volta tra il 5 e il 6 novembre e stamani alle 6 della mattina. Sono intervenuti prontamente gli agenti della squadra mobile e dopo tre episodi di questo genere alcuni inquirenti hanno anche così ventilato che ci possa essere inizio di azioni intimidatorie. Noi non abbiamo paura e così ritengo tutti i miei colleghi esercenti alla Via Tenea, come dice qualcuno, staremo pronti con la schiena dritta e con la testa alta.